Martino, cosa stai leggendo? Sto leggendo le parole chiave che hanno portato io all'Italia questo mese Ci dobbiamo sedere? No, stai a piedi Guarda, sono fuori di testa Come sempre Guarda, guarda Che ne pensa Papa Francesco? La Pasqua è appena passata Martino, vieni Siamo avanti con le parole, se no si fa maggio Vabbè, cosa ne pensa Papa Francesco della cittadinanza? No, non possiamo farlo Questa taglia, ferma